Stiamo seguendo il mister, stiamo facendo quello che ci chiede il mister Stiamo preparando molto bene questa partita, sappiamo l'importanza di questa partita Quindi noi giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, ci impegniamo e ci mettiamo tutta per fare il risultato domenica Sì, senz'altro, noi dobbiamo continuare a guardare la nostra casa, noi dobbiamo continuare a fare i punti come stiamo facendo Noi dobbiamo continuare a fare quello che ci chiede il mister, dobbiamo continuare a fare bene come stiamo facendo ora Poi se gli altri perdono ancora meglio, speriamo di fare bene, fare tre punti anche domenica e speriamo nel passo falso delle altre due Sì, ho avuto modo di giocare con Teo al Chievo Conosco molto bene Matos, anche se sta giocando poco ultimamente Però tutto sommato è una buona squadra, ci sono salvati prima di ora, vuol dire che è una squadra forte Quindi noi dobbiamo cercare di usare le nostre armi e fargli male Il primo giorno che sono arrivato qua mi sono messo subito a disposizione di tutti Anche i ragazzi mi hanno aiutato tantissimo, mi hanno fatto sentire subito a mio agio Grazie per non ci sentire subito A presto è space e superi osperare le nostre armi e fargliere le nostre armi e fargliere le nostre armi e fargliere le nostre armi e fargami